A volte per dire tutto basta un click, come per esempio nelle foto di Ciccio Giovane. Vediamo perché in questo servizio. È stato uno dei testimoni più fedeli nel raccontare la grande storia del secolo scorso, la rivolta di Budapest nel 1956, come la stagione breve e intensa del Cile di Allende, seguita dalla repressione di Pinochet, anni terribili in cui le fotografie e i giornali raccontavano al mondo quello che succedeva, lontano dagli occhi dei lettori. Francesco Giovane è stato uno dei più attivi e dotati fotografi che l'Italia ha avuto. Le sue radici lo hanno riportato dopo aver girato il mondo a Nocere Inferiore, dove 11 anni fa si è spento. Ora il suo grande archivio di immagini che spaziano dalla cronaca internazionale allo sport, alla cronaca rosa, fino ai temi sociali, è diventato un grande giacimento culturale per chi studia il giornalismo. Marianna Irollo ha dedicato a Francesco Giovane una tesi di laurea all'Università su Rorsola, ben in casa di Napoli, e un altro segmento di quel percorso che la Campania e l'Italia stanno facendo per tributare il giusto posto nella storia della fotografia a un grande interprete del fotogiornalismo. Dai primi passi, da Redi, Juan Carlos, in Spagna, ai reportage sulla Camorra durante la guerra cutoliana, tante le inchieste per agenzie, giornali italiani e stranieri. Il suo archivio diventerà presto un patrimonio digitale da sfogliare online, un patrimonio che la rete saprà divulgare e custodire.